620 kg di cocaina, che probabilmente almeno in parte sarebbero giunti in Italia, sequestrate diverse tonnellate di sostanza da taglio e oltre un milione di euro in contanti. Più 60 arresti tra Belgio e Germania, per lo più di origine albanese e magrebina. Sono i numeri di un traffico internazionale di cocaina scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di attività d'indagine dirette dalla Procura della Repubblica, giunta in seguito all'arresto di un 41enne lo scorso giugno, fermato come sospetto jihadista, il casello di Meolo Roncade è trovato con 22 kg di cocaina. L'arresto risale a parte del Guardia di Finanza di Venezia a quest'estate. Da qui siamo partiti poi in collaborazione anche con le polizie belghe e tedesca, ma soprattutto con la supervisione di Eurojust e Europol, in coordinamento con queste polizie europee, per disarticolare l'intera filiera criminale che vedeva la gestione di un ingente traffico di droga proveniente da Sud America, che entrava in Europa per tramite dei porti al nord Europa. Veniva gestita la logistica e anche la parte di confezionamento, di primario confezionamento nel Belgio e poi giungeva tra gli altri anche in Italia, dove complessivamente sono stati sequestrati 170 kg di cocaina. Referenti dell'organizzazione transnazionale dalle indagini sarebbero due cittadini albanesi dimoranti a Bruxelles, che con l'ausilio di connazionali gestivano i traffici di droga destinata al mercato europeo in generale e anche al litorale veneziano in particolare. Spagna, Francia, Germania e ovviamente Italia, dove è stata sequestrata una quantità cospicua. Qui in Veneto il fermo è stato fatto in provincia di Venezia ed è presumibile che andasse tra l'altro in periodo di Sio andasse a rifornire il litorale veneziano. Un lavoro svolto in sinergia tra forze di polizia grazie alla costituzione di una squadra investigativa comune. È come se un'unica polizia, a prescindere dalla bandiera, avesse lavorato in via unitaria. Tant'è che anche il personale nostro della Guardia di Finanza di Venezia era presente alle operazioni in Germania e in Belgio.